Giro di vite per i B&B che esercitano illegalmente, ovvero fuori dalle regole, sono stati i finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta che hanno controllato 16 strutture ricettive, 13 delle quali sono risultate irregolari sia in relazione alle particolari normative vigenti nel settore che alle prescrizioni tributarie della pubblica sicurezza. In particolare sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, 8 soggetti per violazione degli obblighi di comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza ed è risultato inoltre che 8 di questi esercitavano l'attività pur avendo omesso di presentare la segnalazione di certificazione di inizio attività. Infine durante i controlli i 5 soggetti sono stati ispezionati e sanzionati anche per aver omesso il pagamento del canone speciale Rai. Le fiamme gialle del comando provinciale di Caltanissetta continuano a portare avanti un'incessante attività nell'ambito del controllo economico del territorio per stroncare in provincia il fenomeno dell'abusivismo commerciale. L'attenzione dei finanzieri nisseni si è orientata anche nei confronti di quei soggetti che conducono attività di bed and breakfast e affittacamere privi di prescritte autorizzazioni amministrative, fenomeno particolarmente dilagante negli ultimi tempi anche grazie al potente impulso fornito dai vari siti internet. Il fenomeno illecito va a turbare così il regolare andamento del mercato danneggiando gli operatori in regola con le prescrizioni normative e drenando denaro sia agli incassi di questi ultimi che all'erario.